che succedeva nella città. Allora c'è questo Antoniso Barcaris, il barcaiolo che sta al Pireo e parte per andare ad aiutare la rivoluzione spagnola che nel pezzo, nella canzone, viene rappresentata da Carmen, da questa bellissima ragazza che per i suoi occhi Antonio va lì proprio in Spagna e il toro che sarebbe la guerra in quel momento lo sdraia, lo sdraia proprio per terra e lo lascia esanime. La Carmen, la rivoluzione lo piange chiedendogli di venire in vita e di venire in aiuto a lei. Questo è un ballo cassapico, un ballo dei macellai viene detto, che lo balleranno Dimitri e Moni e in più noi aggiungiamo due musicisti, aggiungiamo sia Emiliano che Dimitri per un motivo, non perché sono bravissimi ballerini ma perché sono figli d'arte. Uno è figlio di ballerini e l'altro figlio di macellai, quindi chi meglio di loro poteva parvedere con me. Antonio il baccaiolo. O Adonis, o Baccaris, o Serretis e Paazzana si ripetis. O Adonis, o Baccaris, o Serretis e Paazzana si ripetis. O Adonis, o Baccaris, o Serretis e Paazzana si ripetis. Veli barca e palatia e tis carmene da due macchia Veli blutini e palatia e tis carmene da due macchia Veli barca e palatia, tis carmene da due macchia «Αύρο μαχος πάει να γίνει» «Τραγουδαει κι ολοπίνει» «Θαύρο μαχος πάει να γίνει» «Μα ο άκαρδος ο ταύρος το σκοτώνει» «Και στη γη στον εξαπλώνει» «Μα ο άκαρδος ο ταύρος το σκοτώνει» «Και στη γη στον εξαπλώνει» «Σαν τον βλέπει η καρμενέ κλαίει» «Πάει κοντά του και του λέει» «Σαν τον βλέπει η καρμενέ κλαίει» «Πάει κοντά του και του λέει» «Αχ χατώνει μου βαρκάρι μου σε ρέτη» «Τώρα μένω με τη σκέτη» «Αχ χατώνει μου βαρκάρι μου σε ρέτη» «Τώρα μένω με τη σκέτη» «Μες στον κόσμο οι καημένοι» «Χειρα παραπονεμένοι» «Μες στον κόσμο οι καημένοι» «Χειρα παραπονεμένοι» «Μαι στον κόσμο FM» «Μες στον κόσμο ειδόνει μου ahora και τα κόσμο ο妳medλός για τα ψεφ fine» «Α assemble πουですか!!». «Θαλώδι» «Έbro reeart αυτό το λέει» «Σαλώδι» «Σαλώδι» Grazie.